Palermo in Linux Day 2024, organizzato dall'associazione Free Circle, un momento di riflessione e di confronto su come le tecnologie open source possano contribuire a un'innovazione sostenibile. L'evento oggi è ai cantieri culturali della Zisa, aula di seta con esperti del settore appassionati di tecnologia che hanno discusso delle potenzialità dell'open source nel migliorare l'efficienza energetica e nel sostenere l'autonomia digitale.